Andiamo a scoprire tutti i segreti di Arturo Brachetti, eccolo qua, tu lo volevamo sapere? No, 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 scusa, questo è off limits, no, perché da questa parte, da lì in poi c'è un confino, c'è una trap, una bottola. Ah già, perché non si deve sapere niente. Il palcoscenico, la magia e poi questo spettacolo ha i segreti nella valigia rossa. Noi facciamo firmare ai pompieri che lavorano in teatro dei documenti tremendi, di confidenzialità, rischiano proprio il carcere a vita se svelano i segreti. Tutti vogliono sapere ma come si diventa trasformistico? Calma, io me lo sono inventato nel 1979 perché dai tempi di Fregoli, in 1922, non c'era più un trasformista così in velocità al mondo e quindi sono arrivato a Parigi, mi hanno preso subito perché ero l'unico al mondo. Adesso non sono più l'unico ma mi copiano in tantissimi ma nessuno è riuscito a fare uno spettacolo intero.